Lazio, obbligato a sgomitare per conservare il quarto posto e l'Europa delle grandi contro Milano per cui i punti diventano cruciali per non mettere a rischio la salvezza. C'è da scoprire questo Milan Lazio, c'è il posticipo dell'undicesima giornata di Serie A Team, buonasera e bentrovati, un saluto dal vostro ciccio che per 89. Torna sulla Lazio, in verticale Luis Alberto che alza la testa, arriva ben a serso di lui, Luis Alberto la finta, riesce a superare l'avversario 1-2 con Correa, ancora Luis Alberto dentro per immobile che cazzo! Con la punta dentro per Luis Alberto, il movimento di immobile, scende a destra Lazari, ha lo spazio per attaccare, lo insegue ben a seri in ritardo, Lazari dentro col cross, Ciro, immobile, tanto per cambiare, 1-0 Lazio, 13 gol in campionato. Paqueta, Castiglieco scende a destra, doppio passo, se ne va lo spagnolo, Castiglieco per Celanoglu, il controllo, Ben a ser, fa girare, Ternandes. Ciro a cercare Bastos, arriva al momento giusto ad impattare con il pallone, 2-0 Lazio! Il Milan è veramente al tappeto, sotto i D2 gol con... In panchina, Stefano Pioli! Celanoglu, che chiude troppo con il destro, e palla sul fondo. C'è stato però un tocco di Tomovic, allora... Corner, quantomeno, guadagnato dall'ex Bayern Leverkusen. Dove guardiamo noi, Chris? Dove guardiamo? Non riusciamo, non riusciamo veramente a capire dove sia il vero match, se sul ring o fuori il ring. Bam! È bastata una culatina da parte di Big Show per stendere cort angle, e sono bastate... Silenzio! Silenzio! Clamorosa! Aia! Mi brucia! Sentino che rumore! Una cioppa violentissima! A me, no, silenzio! È il colpo di un fuoriclassico che ti può cambiare la partita, eh? Un Correa, per esempio. Sì. Ecco. No, ho chiesto. La Lazio in avanti ha più qualità. Correa non segna mai. Attenti, non dire queste cose. No, è andato di fatto, è per un attaccato. Un gol di 22-19, Correa non segna mai. Ribadisco, Correa non segna mai. Va bene. Anche te, fai pure il nome. Andrea, segna mai. Ma parli tu, Vito! E attenzione perché adesso sono tre contro tre. Attenzione! Correa! 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 Signore e signori, Correa! E me l'ho portato da casa e sono andato a trovarlo al meglio. Andiamo su Longoni, andiamo su Longoni. Correa non segna mai. Correa non segna mai. Correa non segna mai. Vince la Lazio 3-0. Torna a vincere in casa del Milan, 30 anni dopo l'ultima volta, nell'89. E torna a confezionare tre successi consecutivi in campionato. soe STEP Ok, così che sta venuto. Non segna mai. Correa non segna mai. Acabinare tre successioleni. L'onso, tipo a vincere.